Musica Per arricchire il Natale basta un pensiero, grande o piccolo che sia. Venite a trovarci e troverete un vasto assortimento di abbigliamento donna, uomo, intimo e anche biancheria per la casa. Vi aspettiamo e insieme cercheremo di accontentarvi e di trovare il regalo giusto per voi e per gli altri. Antonella e Jessica vi aspettano, vi augurano un buon Natale. Ricordatevi siamo a Terranova Bracciolini in Via Roma 2. Ciao, buon Natale! Il Boristeria Nadir della Dottoressa Talquini, con le nostre sedi a Terranova Bracciolini in Via Roma 52 e a Loro Sufena in Via Dante alle Ghia di 23, auguro a tutti davvero delle buone feste. Con l'occasione vi ricordiamo i nostri prodotti fitoterapici selezionati, le nostre linee cosmetiche totalmente naturali, la nostra competenza e tutto il nostro impegno. Auguri a tutti! Ottica LDL augura buone feste a tutti quanti e vi aspetta nel punto vendita qui a Terranova Bracciolini in Via Roma 63. Auguri a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.